Ciao e benvenuti a tutti sul canale Serie TV Spoiler. Questo video riguarda le anticipazioni delle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5, sabato 25 febbraio. Vi avverto che questa settimana ci saranno tantissimi colpi di scena, quindi non perdiamo altro tempo ed addentriamoci subito nella trama di Terra Amara. Gaffur confessa di aver messo incinta Ser. Sanye, dopo aver scoperto che Gaffur ha messo incinta Ser, farà una proposta a suo marito. Vuole essere lei a crescere il bambino e non Ser. Quando Unkar rientra nella tenuta, Sanye ne confesserà la sua decisione. Vorrebbe essere lei a crescere il bambino di Gaffur e promette che farà di tutto per crescere il bambino al meglio. Sanye chiederà anche ad Unkar di richiamare Ser alla villa. Unkar vuole parlare con Gaffur. Unkar dà appuntamento nella stalla Gaffur, ma, mentre aspetta, vedremo delle riprese su delle ombre sospette che si aggirano all'interno della tenuta. Gaffur si dirige verso la stalla chiedendosi la motivazione di questa convocazione sospetta da parte della matrona. Mentre Unkar è in attesa di Gaffur, capiamo subito che è entrato qualcuno di inaspettato nella stalla. Infatti Unkar rimarrà sbigottita. Gaffur entra nella stalla ma non troverà nessuno. Al posto della signora Unkar troverà per terra il suo fazzoletto e capirà subito che è successo qualcosa alla matrona e avviserà i domestici della sparizione della Yaman. Mentre i domestici si interrogano su dove possa essere andata Unkar, suona improvvisamente il telefono. Gulten risponde e dall'altra parte della cornetta c'è Fekeli che chiederà di parlare con Unkar. Gulten dirà a Fekeli che Unkar è scomparsa e non sanno dove possa essere andata. Fekeli, allarmato, capisce immediatamente che è successo qualcosa di grave alla sua amata e che il Maz potrebbe essere coinvolto in questo rapimento. Vedremo anche Mushgan preoccupata poiché avendo assistito alla telefonata vede la reazione agitata del padrino di suo marito. Faccia a faccia tra il Maz ed Unkar. Unkar è stata rapita da il Maz e Cetin. È arrivato il momento della verità. Il Maz, con in mano un pezzo della lettera scritta da Zuleyya, inizierà a fare domande ad Unkar chiedendole se quello che c'è scritto nella lettera fosse la verità. Il Maz in preda alla rabbia inizierà a gridarle contro che è tutta colpa sua e che Zuleyya ha sposato suo figlio solo perché è ricattata da lei. Il Maz è davvero sconvolto e arrabbiato, ma Unkar ribatterà alle parole di Ilmaz dicendogli che Zuleyya ha scelto volontariamente di sposare Demir e che in realtà lei ha fatto solo un favore a Zuleyya perché probabilmente sarebbe finita anche lei in prigione con Ilmaz. Anzi, gli dirà che dovrebbe addirittura ringraziarla per aver dato a Zuleyya la possibilità di avere una vita migliore rispetto a quella che poteva offrirgli lui essendo in prigione. Già la situazione è critica, ma sentendo queste parole, Ilmaz si incendia ancora di più e tirerà fuori la pistola e la punterà contro Unkar. Ilmaz non sente ragioni e accuserà nuovamente Unkar di aver giocato con le loro vite e di aver modificato per sempre il loro destino. È arrivato il momento di pagarne le conseguenze e l'epilogo di questa storia sarà tragico. Anche Chettin non crede ai suoi occhi, Ilmaz non può rovinarsi la vita sparando ad Unkar, ma all'improvviso un nuovo personaggio entra in scena. Fecheli ferito gravemente da Ilmaz. Fecheli rompe nella scena e si mette in mezzo cercando di placare il figlioccio e inizia una colluttazione tra di loro. Cercherà in tutti i modi di prendere la pistola di Ilmaz per toglierla dalle mani, ma improvvisamente partirà un colpo e il proiettile colpirà il povero Fecheli che cadrà a terra sanguinante ed emettendo un debole gemito. Sono attimi concitati, Unkar rimane impietrita e Ilmaz in preda al panico cercherà di rimediare alla situazione portando immediatamente Fecheli in ospedale. Arrivo in ospedale, le condizioni sono critiche. Arrivati all'ospedale di Adana, a soccorrerli oltre a tutta l'equipe medica c'è anche Mushgan, visibilmente provata nel vedere Fecheli in quelle condizioni. Sulla barella l'uomo in fin di vita chiede a Ilmaz di non rivelare a nessuno che è stato lui a sparare. Deve rimanere il segreto su questo avvenimento. Mushgan preoccupata salva la vita Fecheli. Fecheli deve essere operato urgentemente poiché le sue condizioni sono serie. Si trova a combattere tra la vita e la morte, tanto che avrà un arresto cardiaco durante l'operazione. Mushgan disperata riuscirà a riportarlo in vita con un massaggio cardiaco, quando sembrava che non ci fosse più nulla da fare. Rientro di un car in villa. Nel frattempo un car rientra nella tenuta visibilmente sconvolta. Tutti i domestici si accorgono che è successo qualcosa, ma un car liquiderà tutti dicendo che sta bene e che nessuno si deve preoccupare per lei. Ma una volta lasciata da sola scoppierà a piangere e la cara nonnina andrà a consolarla. A proposito della nonnina ho pubblicato un video, ti lascio il link qua sopra, dove vengono smentite alcune notizie che stanno circolando in questi giorni proprio su di lei. Vai a vederlo e fammi sapere cosa ne pensi. Ritorniamo alla trama di Terra Amara. Il Maz in ansia confessa a Mushgan di aver sparato a Fecheli, ma per errore. Nonostante Fecheli abbia chiesto ad Il Maz di non dire a nessuno quello che è accaduto, sconvolto dirà Mushgan, la sua neosposa, di essere stato lui a sparare al padrino, naturalmente senza volerlo. Ovviamente ometterà i dettagli di questo accaduto, e quindi non dirà perché aveva una pistola e che cosa stava facendo. Uncar va a trovare Fecheli in ospedale. Il giorno seguente Uncar andrà a trovare Fecheli in ospedale. Appena è entrata nella camera vedrà Il Maz al suo capezzale e per non causare ulteriori tensioni abbandonerà la stanza salutando silenziosamente l'amato. Ma Fecheli pur avendo gli occhi chiusi si accorgerà della presenza di Uncar e una lacrima scenderà sulla sua guancia. Demir scopre la verità sulla denuncia per evasione fiscale. Nel frattempo, mentre si trova a Istanbul, Demir riceve una telefonata dal suo avvocato che lo informa che hanno identificato chi lo ha denunciato per evasione fiscale. Lo Yaman verrà a sapere il nome. È stata sua zia Shermine. Ma dove è finita Shermine dopo l'incendio? Verremo a scoprire che Shermine, dopo l'incendio, ha trovato rifugio presso la casa di Atip. Pur essendo nuovo nella cittadina di Adana, sta già procurando parecchi fastidi a diversi componenti delle famiglie più importanti della città. Ricordiamoci che è stato proprio Atip ad accusare Gengaver di aver denunciato Demir alle autorità, cosa assolutamente non vera, perché abbiamo scoperto proprio oggi che è stata Shermine. Fecheli si riprende. Fortunatamente Fecheli si riprende velocemente e può tornare a casa. Ma il clima in macchina al ritorno dell'ospedale non sembra dei più tranquilli. Infatti vedremo Mushgan distrutta. Credo che nella sua testa gli interrogativi siano molteplici e giustamente Mushgan inizia a nutrire dei dubbi nei confronti del neosposo. Insomma vorrebbe un po' di chiarezza. Arrivati a casa Fecheli dirà a Dilmaz di chiarire la situazione con la moglie. È una brava ragazza dal cuore d'oro e non si merita di essere trattata in questo modo. Insomma le deve delle spiegazioni. Il mazzo cercherà di parlare a Mushgan ma lei distrutta e in lacrime si limiterà ad abbracciarlo e a dirgli che per lei lui è tutto il suo mondo ed è la sua famiglia. Prepara le valigie e si ritorna ad Adana. Demir annuncia a Zuleyha che devono ritornare ad Adana. Purtroppo deve occuparsi di faccende urgenti e non possono più passare del tempo ad Istanbul. Zuleyha visibilmente contrariata ricomincerà la sua lotta personale contro Demir. Insomma il broncio è dietro l'angolo. Ma Demir non può accontentare la moglie e deve chiarire con la zia Shermin e non può farlo se non ritornando nella cittadina di Adana. Ritorno alla tenuta. Appena arrivati nella tenuta Demir rinformerà la madre che è stata proprio Shermin a denunciarlo e adesso deve parlare urgentemente con lei. Non vuole far cadere così la questione. Demir si precipiterà a casa di Atip. Deve parlare con Shermin ma non troverà i due a casa. Dove saranno andati? Festa in arrivo per il figlio di Gengaver. Nel frattempo Gengaver sta organizzando la festa per suo figlio Ali e anche Fekeli, Mushgan e il Maz sono invitati alla festa. Ma proprio mentre Gengaver è dal barbiere scopre la verità. Prima di iniziare la festa Gengaver si reca dal barbiere per farsi bello ma parlando col barbiere scoprirà una verità che cambierà per sempre il corso degli avvenimenti. Domani verrà pubblicato il video dove scopriremo come andrà a finire. Perché tutto in un video non ci stava e diventava un video troppo lungo. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Ciao!